Un saluto da Fabio D'Aglio di Trebi Meteo. Mercoledì è l'insegna del maltempo sulle regioni del nord per l'arrivo di un'altra perturbazione che interesserà poi nell'arco del giorno anche le regioni del versante tirrenico portando piogge diffuse anche su questi settori. I fenomeni comunque saranno più abbondanti a nord del Po e sull'arco alpino. Vediamo le temperature minime che saranno in rialzo un po' ovunque per effetto delle correnti sciroccali che precederanno il peggioramento mentre per quanto riguarda i valori massimi da segnalare un calo soprattutto sulle regioni del nord per effetto comunque delle nubi e delle precipitazioni che già aggiungeranno dal mattino. Vediamo infatti uno zoom sulle regioni del nord dove la giornata sarà all'insegna del maltempo con piogge diffuse specie a nord del Po e su tutto l'arco alpino con fenomeni nevosi a partire dai 1200-1500 metri massi inverso i 1600-1800 metri ad est sul Triveneto. I fenomeni poi tenderanno gradualmente ad esaurirsi entro la fine del giorno. Passando alle regioni del centro che qui avremo inizialmente condizioni un po' più soleggiate ma con nubi e fenomeni già sulla media alta Toscana che poi nel corso del pomeriggio tenderanno a portarsi su tutta la Toscana ma anche sulla dorsale e sulle alte marche entro sera poi sul Lazio con anche locali fenomeni a carattere temporalesco. Passando infine alle regioni del sud qui condizioni un po' più discrete con tempo anche soleggiato cieli da poco a parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire da versanti terrenici e qualche goccia di pioggia entro sera così come sulla Sicilia meridionale. Infine sulla Sardegna tempo più brutto sin dal mattino con fenomeni anche a carattere di rovescio sulle coste occidentali dell'isola mentre sarà un po' più asciutto all'est. Bene con questo è tutto vi rimando ai prossimi aggiornamenti su trebimeteo.com